non so se un'agenzia deve dire la verità penso ansa agi adn kronos che tra l'altro ha un rapporto forse di lavoro con me e però deve dire quello che vede siccome io nino ippolito vediamo quelli che hanno e come hanno risposto alle mie osservazioni sullo spot dietorelle con due donne che si baciano e lo spot non è proibito a nessuno per tutte le età e con un uomo che sta letto con due donne dovete dirmi se questo è quello che dobbiamo fare vedere ognuno fa quello che vuole ma se questo è quello che dobbiamo fare vedere come comportamento che abbia a che fare con la dolcezza dello zucchero con certamente se vado a vedere l'ultimo tango a parigi o un film pornografico potrò vedere un uomo fra due donne o potrò ripetere nella mia immaginazione l'azione di ciro grillo con i suoi amici e la povera donna che hanno forse violentato e tutto questo però ha a che fare con una scelta la pubblicità che va a tutti non può mostrare due donne che si baciano non perché sia giusto o sbagliato ma perché indica un costume che non potremo mai pensare che debba essere prevalente deve essere una delle possibilità e chi crede chiedo che i propri figli ai valori cristiani ha diritto a essere rispettato e così l'uomo con due donne e così le due donne che si baciano la leggo qua a dn cronos alla fine il risultato ottenuto è una diffusione virale dello spot e una valanga di messaggi che criticano la posizione di sgarbi proiettando l'hastac dietorelle al verde c'è tra le tendenze che poi la siciliano anche tendenze ma io ho visto che invece la più parte di quelli che hanno visto le cose che ho detto hanno approvato le mie parole perché non sono le parole di un moralista e non sono neanche le parole di uno che è contro la volontà di mitigare l'omofobia ma se c'è l'omofobia c'è anche la pedofilia e c'è anche la pornografia occorre essere vigili su tutti i fronti non solo quello di rispettare gli omofobi anzi non rispettarli rispettare gli omosessuali e non essere omofobi ma anche quelli di tutelare i giovani i giovani i giovani i bambini dalla pornografia evitando di introdurre pensieri o sentimenti o emozioni erotici in bambini che hanno meno di 14 anni per cui contro l'omofobia ma anche contro la pedofilia e contro la pornografia e se non siete d'accordo andate davanti a un mondo in cui indicano i vostri figli vai a letto con due ragazze tua madre baci la sua amica ecco tutte cose che possono accadere ma che non c'è nessun motivo che vengono pubblicizzate e questo lo dico a dioterelle a dioterelle come si chiama e a dn kronos perché il resoconto di quello che è accaduto non corrisponde alle risposte delle tante persone che hanno capito questo ragionamento semplice che non è contro il ddl zan o a favore degli omofobi e contro diverse specie di reato o di pornografia questo è poi dice non è pornografia che le giovani si bacino io credo che sia al limite della pornografia qualcosa che è meglio non far vedere una pubblicità per tutti